Contro il caporalato e a sostegno dei lavoratori licenziati della cooperativa di Basiano che nei giorni scorsi si erano scontrati con le forze dell'ordine e oggi a Milano un porteo di Cobas, Coop e centri sociali. Il primo giugno dopo gli scontri un operaio a terra viene preso a manganellate per un altro invento. E' uno dei 110 lavoratori, quasi tutti pakistani ed egiziani, di una cooperativa che si occupa di logistica per i magazzini gigante. I titolari avevano comunicato il loro licenziamento dal 20 giugno sostituiti da un'altra cooperativa in cui ci vendetti accettano di prendere un terzo dello stipendio, 3 euro all'ora, invece che 9. e si sa che tutte le cooperative della logistica sono gestite 99 da cento da mano e da caporalato. Da un giorno all'altro ti dicono non lavori più qua, cercando di sostituirli con lavoratori che lavorano a costi più bassi, tra i quali anche lì c'era già uno sciopero. Oggi sono in corteo a Milano insieme a Cobas per protestare contro le botte ricevute mentre loro dicono cercavano solo di difendere il posto di lavoro. Quel giorno a Basiano hanno assaltato per disperazione il pullman che portava operai mandati a sostituirli durante lo sciopero. Violenta la reazione delle forze dell'ordine, 20 feriti, tutti fermati poi negli ospedali e denunciati. Qualcuno di loro porta ancora i segni. È stato ferito. Dove caribiniere? Vogliamo parlare con loro per mettere d'accordo qual è la nostra situazione? Cosa fanno con loro? Loro vogliono solo cancellare noi da un bagasino? Nella difficile situazione del lavoro in banca...